Questi sono quelli di Venezia, sono un po' indiuscisa o per la qualità della diapositiva, è un po' proprio per capire qual è più significativa, secondo me siccome parliamo delle città d'acqua sarebbe preferibile avere tutto insieme, però non so quanto sia valida. Vediamo uno sguardo, mi sembra buona, ho una buona incisione. Allora di Venezia quella. Allora di Venezia. No. 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 Cercavo una foto della stazione Termini del fondo Cugnoni, della vecchia stazione Termini. Vediamo se il fotografo Cugnoni è presente e con cosa. Per l'esattezza sono quattro documenti. Eccola. Ah, eccola qui. Queste sono foto del 1880 circa. In questa maniera può vedere le immagini che sono corredate anche da una piccola didascalia, quindi ci sono dei dati che le possono servire per richiederla. Qui quasi non si vede niente. Devo dire che era completamente... In effetti invece è tornato. La parte più danneggiata era qui sulla sinistra. Ma guarda il cesto di frutta. L'hanno recuperato tutto. Vediamo col marmo come è andata. Il viraggio rosso sono riusciti ad eliminarlo completamente. Partire da noi. Che esposizione cerchiamo? Perfetto, dammi lo chassé. 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 Perfetto, dammi lo chassé.